E' operativo dal 19 luglio 2024 il container che Poste Italiane ha temporaneamente installato in piazza Cappuccini a Tricase per garantire il regolare svolgimento delle operazioni postali e finanziarie dell'ufficio di Tricase Centro fino alla riapertura della sede situata nella stessa piazza la cui chiusura si è resa necessaria per i danni riportati a causa di un attacco criminoso avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 aprile scorso. L'installazione del container dotato anche di ATM posta ma è stata fortemente voluta da Poste Italiane in seguito ai disagi manifestati dai cittadini costretti a recarsi per eseguire le loro operazioni presso l'ufficio di via Rossini. Quest'ultimo non riusciva ad espletare nelle tempistiche dovute le operazioni quotidiane accumulando ritardi e creando non pochi inconvenienti ai residenti. Intanto fa sapere l'amministrazione comunale dopo l'estate dovrebbero prendere il via i lavori di ristrutturazione dell'ufficio di piazza Cappuccini che dovrà tornare operativo nei primi mesi del 2025.